Lugano Torreggiani è anche dal lato fiume ma anche dal cielo, è praticamente un sorvegliato speciale dall'Università di Firenze. Nicola Casagli è il geologo dell'Università di Firenze che coordina il team che si sta occupando attraverso strumentazioni che adesso ci spiegherà di capire se il muro si sta muovendo. È così? Sì, è così. Abbiamo installato ieri mattina della strumentazione di avanguardia per monitorare deformazioni e spostamenti. Qui abbiamo un radar, si chiama radar interferometrico, produce mappe di spostamento ogni 5 minuti. Poi abbiamo uno scanner laser e una stazione totale robotizzata. Utilizziamo anche i satelliti di diverse agenzie spaziali italiane, stiamo elaborando i dati e potremmo fare anche monitoraggio indietro nel tempo per vedere che cosa stava succedendo in questa zona prima dell'evento. Cioè capire se è negli ultimi giorni, mesi, anche anni attraverso i satelliti ci sono stati smottamenti del terreno, è un po' questo? Smottamenti no, si sarebbero visti, ma lievi deformazioni che potevano far presagire qualcosa. Probabilmente no, perché io ritengo che questo fenomeno sia una rottura localizzata, però può darsi che ci siano dei fenomeni precursori e con questo tipo di indagini riusciamo senz'altro a evidenziarli.